Dica, dica. Buongiorno, mi trovo in località Riccione, presso la mia vacanza. E ho mal di testa, mal di schiena, ho la tosse, ho mal di gambe. E poi? La mia vacanza sta andando da schifo. E' vero? No, sto scherzando. Sta andando una meraviglia, visto che sono con il mio zio e la mia nonna preferita. C'è anche lento al dalle. Carino? Sì. Fai un gesso? Fai un gesso.